Ambra sembra essersi ripresa dalla fine della storia con Allegri e scherza con la figlia e gli amici. E poi per fortuna c'è lei. No, hanno apparecchiato loro, ma i panchetti li ho fatti io. Vieni e bacio, me non costi niente. Cosa? Cosa? Guarda che cosa stanno facendo di no. L'attattore, chiudo magico, non funzionava molto bene. Ma che scherzza è? E' buonissimo. Yolanda è davvero brava, infatti fa i piedi anche al fratello. Yolanda assomiglia tantissimo ad Ambra, ma comunque ha qualcosa anche del padre Francesco Renga. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.